Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Lyle e oggi siamo qua in un nuovissimo unboxing. Oggi andremo ad aboxare questo pacco di crackers che ci è stato inviato appunto dalla Gran Pavesi per appunto farci un video, appunto per presentarvi questo nuovo crackers. Come vediamo, la scatola è in plastica, abbastanza rigida. C'è arrivata in posta, abbiamo un'apertura posteriore e anteriore. Possiamo decidere noi appunto dove aprire. All'esterno è abbastanza bello come vediamo, ci si presentano subito nella parte frontale del pacco. Cracker, pomodoro e granapadano DOP, quindi onesto. Poi andiamo a fare le confezioni non vendibili singolarmente. Andiamo ad aprire. Ok, apriamo. Troviamo all'interno uno stack di cinque crackers. Proviamo che grazie appunto alla Gran Pavesi possiamo dividere. Così, come vediamo. I crackers sono rettangolari, ma grazie appunto agli ingegneri della Gran Pavesi sono riusciti a trasformare da un cracker in due, tramite la separazione cellulare. Ok, l'unboxing qui è finito. Come vedete io ve li consiglio, sono abbastanza buoni. Io vi saluto, da lei è tutto, al prossimo video. Ciao ragazzi.